c'è un timo scorilla guarda per sé, proprio saliva di vita ma io faccio la App e la domino è la mia la domino è la mia la domino Sì, ok, è ok, stai malo. Sì, 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 ok, stai malo. No what? Sì, ok. Ok, stai malo. Sì, ok. Ok, stai malo. 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 rekinyl. Ok, stai malo. So. ovo canto san just 20 san with a miga ha 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 this one's haten ho ancora un Gameboy, Bass X1, Xbox, NES, non lo so, con una grande cassetta, Sega Megadrive, non c'è quello che c'è oggi? Zanna per il colo, è chiaro. ... Qui va esser? Da come gettura, da come gettura Come mi è ancora più rinano, ho dovuto sempre rinpustare. Super Mario, solo... ... 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 Super Zeit Schauen wir mal, was kann ich da tun. Das ist auch nicht, das ist auch nicht. Hm. Voll, aber total. Es sieht alles immer echter und echter und echter und scheiß mehr aus. Irgendwann einmal sind wir dann drinnen. Fuuuck. Aber vorher noch. Bei mir ist schon auf die Morpheus drinnen. Schauen wir mal. Auf die VR. Kauft Pflicht für mich. Wenn ich dort kein Herz-Casperl kriege, dann habe ich es überstanden. Mit Silent Hill. Huuu. Huuu. Ja, jetzt kommt sowieso ein Haufen geile Spiele, das ist... Wer ist da? Huuuck. Wo ist mein Mitte. Gert die Mast deine Arbeit. Komm, schön weiss, fass, fass, fass. Fass, fass. ... ... ... ... ... ... ... ... Ma cosa faccio adesso? Cosa sta bene? Cos'è come Oculus Rift, no? Cosa faccio adesso? F**k, se si viene a me, non mi fai. Sliucchi! Aaaaaah! Sì, sì. come presenti io io oh io che 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 non c'è un po' di gioco il gioco il gioco il gioco 85% sono già finito il progetto il rechnero metri che il rossomo il loro super il pubblico con il spazio scherzo ok come come E' un'altro più rum. Ah, c'era già. C'era in Los Angeles. Con la vita ho avuto la prima di gameslomb. C'è qualcosa. C'è qualcosa di andare. C'è qualcosa di più. andiamo e ora 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 che c'è l'invito in ottobre dov'è vedere se si è Grazie.